preghiamo insieme iniziando dal segno della croce nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen supplica alla madonna delle lacrime madonna delle lacrime abbiamo bisogno di te della luce che si irradia dai tuoi occhi del conforto che emana dal tuo cuore della pace di cui sei la regina fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità i nostri dolori perché tu li lenisca i nostri corpi perché tu li guarisca i nostri cuori perché tu li converta le nostre anime perché tu le guidi a salvezza alle tue sante lacrime gesù nulla rifiuta tu sei l'onnipotente per grazia degnati o madre buona di unire le tue lacrime alle nostre affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto radore noi ti chiediamo o madre dell'amore di dolore e di misericordia ascoltaci abbi pietà di noi amen supplica alla madonna delle lacrime di giovanni paolo secondo o madonna delle lacrime guarda con materna bontà al dolore del mondo asciuga le lacrime dei sofferenti dei dimenticati dei disperati delle vittime di ogni violenza ottieni a tutti lacrime di pentimento e di vita nuova che aprano i cuori al dono rigenerante dell'amore di dio ottieni a tutti lacrime di gioia per aver visto la profonda tenerezza del tuo cuore amen recitiamo insieme un pater ave e gloria secondo le intenzioni del sommo pontefice padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli amen credo in un solo dio padre onnipotente creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo signore gesù cristo unigenito figlio di dio nato dal padre prima di tutti i secoli dio da dio luce da luce dio vero da dio vero generato non creato della stessa sostanza del padre per mezzo di lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello spirito santo si è incarnato nel seno della vergine maria e si è fatto uomo fu crocifisso per noi sotto ponzio pilato morì e fu sepolto il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture è salito al cielo siede alla destra del padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine credo nello spirito santo che è signore dalla vita e procede dal padre e dal figlio con il padre e il figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la chiesa una santa cattolica e apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati aspetto la risurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà amen prima di concludere questo momento di preghiera con il signore ti invito a riportare nei commenti la tua particolare intenzione di preghiera così facendo chi passerà di qua la vedrà e potrà pregare affinché dio ti conceda la grazia che chiedi se vuoi continuare a pregare insieme alla nostra comunità se vuoi scoprire nuove preghiere di ringraziamento di lode di intercessione non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale cliccando anche la campanella il signore ti benedica e ti custodisca mostri a te il suo volto e abbia di te misericordia ti auguro ogni bene e torna a pregare presto insieme a noi